almeno la sai usare quella pistola come fai a sapere che ho una pistola? perché lo sono mi misi a ridere sonoramente questo è il fatto questa è la rumediazione rispetto ai tanti orrori di Auschwitz una piccola cosa ma tuo padre non l'ha mai dimenticata tuo padre mi scriveva lettere mi scriveva parole tra le più atroci parole tra le più splendide lettere che mia moglie con mille accortezze inoltrava a me a proposito poi si è tornato in mente a mia moglie ma non perché eri uno dei suoi studenti ho odiato tuo padre perché la sua ossessione per me mi ha reso la vita impossibile ma devo ammettere che mi ha completamente conquistato inesorabile bellezza della vendetta un'intera vita dedicata a vendicare un'umiliazione questa si chiama perseveranza si chiama grandezza tre del furto la piccola bicicletta poi durante l'inferno anche noi dall'altro lato del filo spinato guardavamo la neve e guardavamo Dio Dio è così una forma infinita che stordisce bella pigra e ferma che non ha voglia di fare nulla come certe donne che da ragazzi a bemmo se lo suonet A presto A presto